facciano vedere. Noi ci fermiamo, ci salutiamo così, una piccolissima pausa, torniamo tra poco con il riepilogo dei fatti principali. Buon pomeriggio e benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sulle traffico, viabilità e transitabilità di strade e autostrade. Sabato pomeriggio caratterizzato da traffico intenso, penalizzato da forti temporali al nord che condizionano la viabilità non solo sulla 4 dove resta chiuso lo svincolo di stesso San Giovanni, complicato anche da un incidente che sta registrando delle code tra Dalmine e Bergamo. Ma anche in area bolognese in questo momento c'è in atto un forte temporale con forti disagi alla viabilità. Occasione questa per ricordarvi il caso di pioggia che il limite di velocità scende da 130 km orari a 110, anche se stiamo viaggiando su strada costituita da pavimentazioni di asfalto drenante. Come di consueto diamo uno sguardo alle immagini che monitoriamo esattamente sulla 14, abbiamo flussi veicolari vivaci, come vedete ci sono dei ristagni d'acqua che penalizzano la viabilità. L'altro tratto è la 4, come dicevo ci sono forti visaggi ma qui all'altezza di Monza si viaggia con tutta tranquillità. Ma inizio nelle comunicarvi che ci sono flussi intensi di traffico con code di circa 9 km su la 23, la Palmanova a Tarvisio, esattamente alla barriera di Ugovizia in direzione dell'Austria. Code che ritroviamo anche sulla 9, la Enatechiasso per 7 km tra il lago di Como e Como in direzione del territorio elvetico. Anche sulle versanti nord-ovest, sul 10, la Genova e Ventimiglia, si registrano code esattamente tra il chilometro 44 e Sputorno in direzione del confine di Stato. Code che ritroviamo per un tratto chiuso sulla 5, la Torino-Courmayer, tra Verre e Ponte e Saint-Martin in direzione Torino. E queste sono state le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione da Alessandra Canale di Rai Pubblica Utilità, guidate con prudenza, fate buon viaggio e a voi tutti un piacevole sabato sera. Buon proseguimento, arrivederci.